La riforma sanitaria ospedaliera siciliana, abbozzata dall'assessorato al ramo isolano, è destinata a danneggiare ancora una volta l'ospedale di Gela. E se qualcuno si sta trattenendo dal festeggiare è solo perché si è in attesa dell'approvazione definitiva della bozza di riforma, magari promettendo nel frattempo l'istituzione di due o tre unità operativa complessa per l'ospedale gelese. In una prospettiva a medio e lungo termine non si può fare a meno di realizzare che l'ospedale di Gela subirà un danno da questa riforma qualora venisse integralmente accettata nel suo impianto di base. La denuncia è del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. Il sistema individuato in Sicilia infatti è quello degli hub e spoc. È un sistema simile ad una ruota di una bicicletta. Gli hub sono il centro, dialogano con tutti gli ospedali del bacino di riferimento e soprattutto ricevono i casi gravi che non possono essere trattati dagli spoc. Per mancanza, in quest'ultimi, di strutture adeguate. Gli spoc sono i raggi che non dialogano tra loro, né con le altre strutture ospedaliere, benché di livello inferiore, di base, di zona risaggiata, a rischio ambientale, ma interloquiscono e si interfacciano soltanto con l'hub. Con questa riforma, per dirla tutta, il riferimento per lo spoc Vittorio Emanuele III di Gela è l'hub Santeria di Caltanissetta. Nell'amara consapevolezza che tutte le volte in cui siamo stati associati a Caltanissetta, dice il comitato, Gela purtroppo ha pagato d'azio, anche con lacrime di sangue. Il comitato ricorda quanto è successo con la creazione delle ASP in cui Gela perse la sua autonomia ospedaliera, con i risultati negativi che tutti vediamo. Caltanissetta diventa dipartimento di emergenza e assistenza di secondo livello. E qui iniziano i primi problemi. Il rischio concreto che si rileva per Gela è quello di perdere il secondo livello di ginecologia e ossettricia, nonché l'Utin, l'unità terapia intensiva neonatale. Perché un centro DEA deve affrontare anche le emergenze neonatali, ginecologiche e ossetriche? Quindi può un hub essere sprovvisto di Utin, pronto soccorso, ostetrico, ginecologico, la ginecologia e l'ossettricia di secondo livello? Assolutamente no. Si può creare un altro centro materno infantile di secondo livello a Caltanissetta? Nemmeno questo è possibile, in quanto i bacini minimi per le Utin e la ginecologia di secondo livello sono di circa 60.000 abitanti. Agrigento ha il nostro centro materno infantile di secondo livello. Enna anche. Quindi cosa avverrà? La scelta più probabile sarà quella di mettere tempo farcito di promesse e garanzie, evitando intanto di istituire a Gela la ginecologia e l'ossettricia di secondo livello e l'Utin, fin quando le condizioni diventeranno favorevoli per istituire queste importanti strutture presso l'ospedale di Caltanissetta, senza le proteste dei gelesi. Finiscono anche i sogni per il Dipartimento Oncologico di Eccellenza. In buona sostanza, Caltanissetta è hub, Agrigento è la piccolissima Enna Spock, ma ha capoluoghi di liberi consorsi e quindi non temono nulla, mentre Gela, la solita cenerentola, sarà il centro di raccolta della merce per giustificare l'hub a Caltanissetta. Preferiamo di gran lunga, chiude il comitato, come già avviene nelle altre realtà, usufruire dei veri hub di città, come quelli etnei, anziché avere come riferimento un ospedale di campagna promosso da quelli che il comitato definisce politicanti ad hub di campagna.